Il ritorno ha successo dopo quattro turni di assinenza e nell'appuntamento più atteso, il derby del Salento. Una vittoria che vale oro in chiave salvezza ottenuta tra l'altro contro una diretta concorrente. Sorride il Nardò, lo fa al termine del recupero vinto 2-1 al Capozza di Casarano. Grazie alle reti di Puntoriere e Mariano può gioire anche Pasquale De Candia dopo un periodo particolarmente delicato in cui i nereti hanno raccolto meno rispetto a quanto seminato. Dalla prestazione abbiamo raccolto questi tre punti, credo meritati, poi adesso festeggiamo fino a stasera e poi da domani si ricomincia a pensare alla prossima partita. Serviva una scossa ed è arrivata sia sul campo con la vittoria di Casarano sia in classifica. Il Nardò infatti non è più penultimo, è tornato in zona play-out ed è a meno 5 dalla salvezza diretta con due gare in meno. Una da recuperare contro il Lavello, l'altra da terminare con la Mariglianese, anche se si ripartirà dal 2-0 per i campani. Il successo del Capozza inoltre è stato importante soprattutto per il morale dei calciatori. Questa vittoria è tutto merito esclusivamente loro perché loro devono crederci in loro stessi. Perché c'è stato un periodo in cui abbiamo perso stima in noi stessi, ma forse anche io nei miei confronti. Quindi va bene questa applicazione da parte loro. Niente fatto, sicuramente è una bella vittoria su un campo importante e difficile contro una signora squadra che ha fatto più che bene secondo il mio modestissimo parere. Quindi niente fatto, adesso dobbiamo dare continuità. Domenica arriva il Giovanni Paolo II, il Bitonto, terza forza del giorno H ma a secco di vittoria da sette turni. Il Nardò non può rilassarsi e come suggerisce la classifica deve continuare a macinare punti.